ciao allora oggi vi voglio mostrare il mio piccolo shopping che ho fatto da bottega verde io quando entro non so mai come esco e soprattutto se esco anche questa volta ho fatto danni notevolmente ma ci sono anche tantissimi omaggi quindi scottrina alla mano vi mostro tutto allora l'appoggio qui e tiro fuori cosa tiro fuori i prodotti prima o gli omaggi i prodotti allora cosa ho preso sto tirando fuori e organizzarmi prima ok allora dunque prima di tutto questo che è il natural leaf crema contorno occhi con argine argireline è stato di mirtillo questo qui dovrebbe essere esatto e l'ho pagato allora questo qui costava 26 e 99 ma io l'ho pagato 4 euro e 99 con le offerte poi altro prodotto che ho comprato qui me ne manca uno sicuramente che non troverò mai eccola 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 allora la matita questa occhi questa è la matita occhi marrone dice di essere tenuta estrema matita occhi automatica waterproof tenuta estrema allora è questa qui marrone questa automatica scrive scrive bene ed è un marrone bronzo anche carino allora il prezzo di questa era 12 e 99 ma io l'ho pagata 4 e 99 e non contenta ha voluto provare anche la versione nera quindi stessa cosa però in nero vediamo è un bel nero proviamo e soprattutto vediamo se dura quindi anche questa 4 e 99 invece che 12 e 99 poi altri prodotti che ho comprato sono eccola qua questa che è la crema mani mela e spezie con succo di mele e stato di cannella dovevo assolutamente averla è un 75 ml veniva 12 99 ma io l'ho pagata 2 euro e 99 e un prodotto che ho acquistato è questo rossetto liquido rossetto liquido tenuta estrema questo è il colore anguria è quello che indosso devo dire che per adesso è confortevole sulle labbra è uno transfer quindi ok vediamo come si comporta è questo qui 16 e 99 ma io avevo lo sconto del 50 quindi l'ho pagata 8 euro e 49 iniziamo con gli omaggi allora primo omaggi era questo set della estrati di bellezza questo con mela verde e kiwi per pelli da mista grasse wow sono delle mini taglie questa è italiano non ci sarà mai sì questo è il gel crema idratante e questo è lo scrub maschera due in uno purificante e sono curiosa di provarli poi altri campioncini questo è lo shampoo purificante fortificante allo zenzero che sono curiosa perché la novità e le toilette pepe rosa lo amo crema corpo al tiaree proviamola anche se un po più estiva e poi il nuovo fondotinta questo è il fondotinta my color colore naturale proviamo anche questo sono sempre curiosa di provare questi prodotti poi vediamo un altro allora un'altra cosa che invece questo set eccolo qua che quello al goji perfect ai 35 anni in su me l'ho pagato 2 euro e 50 quindi tutto 7 che anche carino perché oltre a essere bella la scatola e sono tutte delle mini size che comunque sono belle anche da provare quindi la linea goji è nuova abbiamo questo che è il primer viso uniformante confezione da 10 ml poi la crema trattamento viso antietà con protezione 15 e la quantità c'è sotto è un 30 ml quindi anche 2 euro 50 e poi il questa qui che è il balsamo prodigioso antirug giorno e notte da trazione intensa e questo è un 10 ml quindi io credo che per 2 euro 50 è un attimo set da provare ultima cosa che invece non ho pagato perché era un fine se dunque era in omaggio con una cartolina però la cartolina è scaduta e gli era rimasto uno sa che io faccio le recensioni e quindi me l'ha regalato e questo zaino che non ho neanche guardato ma secondo me è carino per lo scolastico forse con inizio della scuola è bello è carino a 1 è ben imbottito dentro poi una taschina qui è l'imbottitura a una tasca anche qui davanti alla fine è bello grande alle spallotte anche belle imbottite regolabili mi piace mi piace molto carino e questi erano tutti gli acquisti da bottega verde quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video shopping che alla fine con lo scontrino doveva essere 92 79 invece ho pagato 31 31 e 29 più piccolo quello che ho pagato e più grande quello che in teoria era il prezzo va bene allora fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video se vi incuriosisce qualcuno di questi padotti così inizio a testare quale di questi se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un like iscriviti al canale e anche cliccate sulla campanella così valete avvisate ogni volta che calco un nuovo video alla prossima ciao